La consigliera Maria Caniglia qualche giorno fa aveva lanciato l'idea di devolvere al Comune il 5 per 1.000 dalla dichiarazione dei debiti da destinare appunto alle migliori in città. E' una bella cosa, tra l'altro quello è un atto di liberalità che fa ogni cittadino quando fa la dichiarazione sulle imposte e sulle tasse, quindi è bene che si possa essere una decisione ampia, autonoma, plurale secondo i desiderata di ognuno, quindi mi sembra una buona proposta.